Silvio le prende in Europa, poi c'è il solito fascista che si dice frainteso e la transizione della transizione ecologica. Eccoci il nostro quotidiano bestiario di governo. Iniziamo. Tira una brutta aria per Silvio in Europa. In una lettera indirizzata al presidente dei popolari Manfred Weber, un gruppo di europarlamentari tedeschi di diversi gruppi chiede di espellere Berlusconi dal Partito Popolare Europeo dopo la sua alleanza con Fratelli d'Italia. Weber aveva difeso il fondatore di Forza Italia nelle ultime settimane. I valori fondanti dell'Europa non possono essere barattati per una partecipazione in un governo. Le voci di una famiglia di partiti europeista non possono portare il potere a un governo di estrema destra. Il cordone di sicurezza nei confronti della destra non deve venire meno. Chi si allea con l'estrema destra non la domestica. Chi si allea con gli estremisti le aiuta a prendere il potere, si legge nel documento. Lo dicono anche in Europa. La definizione centrodestra qui da noi in Italia è una truffa. Chissà quando lo capiranno anche i nostri colleghi giornalisti. Poi non è fascismo, è mitologia. Dicevamo nel bestiario di ieri del nuovo segretario della Lega di Bologna, Cristiano Di Martino, ha tatuato su un braccio un dente di lupo sovrastato da un pugno che regge un martello, che è il simbolo di terza posizione, movimento fascista fondato a Roma negli anni 70. Di Martino, come accade sempre in questi casi, risponde allo sdegno generale spiegandoci che gli è sempre piaciuta la mitologia nordica. Sono sempre stato appassionato di fumetti, mi piace, Thor dice. E tanto per aggiungere in barazza la sua già imbarazzante tesi difensiva, invita a guardare gli altri che fanno peggio di lui. Ci sono in giro segretari con la croce celtica, spiega. A posto così. Aspettiamo il prossimo. Poi Salvini batte i piedi per il Viminale. Matteo Salvini non si espone. Dopo il Consiglio federale leghista di martedì, che ha chiesto che il suo leader venga riaffidato al Viminale, aspetta determinazioni da Giorgia Meloni. Filtra, in questa notizia, da fonti del carroccio, secondo le quali ieri non c'è stato alcun contatto tra Salvini e la leader di Fratelli d'Italia. Ora, potrebbe scrivere anche una letterina a Babbo Natale, mentre aspetta. Poi, chi soffre con l'apostrofo a Giorgia? Il ministro Cingolani, che lei considera intelligente, capace e generosissimo, ha detto di no al governo Meloni. Lo stesso per il ministro Franco, anche se da Fratelli d'Italia fanno finta di non averlo mai contattato per non sembrare più draghiani di quanto già sembrino. A Giorgia Meloni, però, si è offerto il ministro Colau, è la bellezza di questi ministri tecnici. Buoni per tutte le stagioni e soffre anche, indovinate un po', il democratico Lorenzo Guerini. Che tenerezza. La transizione della transizione energetica. Al congresso della Will, quando Franco Bernabè, il presidente di Acciaieria d'Italia, ovvero l'ex Ilva, dice dal palco del congresso della Will, non possiamo seguire gli slogan di Creta Thunberg e fare tutto e subito, l'applauso della platea di delegati sindacali radunati all'hotel Ergife si alza fragoroso. Più fragoroso anche dei numerosi interventi precedenti. Insomma, un ottimo assist a Giorgia Meloni per transare la transizione energetica. Mica per niente avrebbe voluto Cingolani come ministro. Il maestro della transizione, detta ma non fatta. Poi, candidati da sogno. Fratelli d'Italia, è il primo partito in Veneto e per il dopo Zaia c'è già chi si propone. L'assessora Elena Donazzan dice, ora il mio sogno si può realizzare. Elena Donazzan, per capirsi, è quella dell'attacco alla professoressa trans suicida Chloe Bianco, dei boia chi molla su Facebook, delle commemorazioni di Salò, della battaglia contro i libri gender e dei cori di facciata nera. Non male, eh?